Alle violenze e le minacce purtroppo era abituata. Un figlio di soli 20 anni è già preda di droga e alcol capace di terrorizzare spesso lei, la mamma e lo zio con i quali abitava a Treviso. Necessità di soldi, scopi di re improvvisi, botte e insulti, mesi e mesi di vessazioni. Ma quanto accaduto la notte del 10 giugno scorso è stato il gesto che ha sorpassato ogni limite. Questa volta la donna ha temuto davvero di soccombere. Stava dormendo quando è stata svegliata di soprassalto dal ragazzo armato di coltello e che la minacciava di morte. Attimi di altissima tensione e paura finché la donna nel momento di distrazione del figlio è riuscita a chiamare la polizia. Le volanti sono arrivate subito sul posto per evitare il peggio. Il passo successivo l'arresto del ventenne. Per la mamma tanta amarezza ma anche la fine di un incubo sopportato per troppo tempo.